ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video che stiamo registrando di notte esatto l'illuminazione è cambiata totalmente perché adesso non devi andare più a distanza di tempo i video di un giorno all'altro sì perché andiamo secchi a giorno giorno vabbè qua questo quando uscirà sarà metà ottobre questo è il 13 fino a ottobre comunque abbiamo solo chiuso le tapparelle perché fuori c'è uno stronzo che era lo speaker probabilmente lo sentirete anche porco la scelta era andare di sgruzzarlo come abbiamo fatto sparagli nelle palle anche a voi cercare di isolarci comunque il terzo episodio è finito da bernoccoli in testa come direbbe il nonno partiamo con il quarto mezzo la nebbia con clementine che piange l'acqua di sangue sembra che si sia sporcando di sangue ma questo sembra kenny questo non so chi cazzo è con la barbetta questo sarà luke con la barbetta cazzo gli è cresciuto non passati sei mesi lei si è tagliata i colini però vabbè andiamo avanti addio madonna mia e questo sarà l'episodio che secondo me con questo non andiamo con questo piangiamo e dobbiamo giocare già lì quando è finito il terzo venuto fare una pausa perché eravamo trovati per se si vanno a capare capo di capo di capo di capo di capo di capo di capo previously on the walk in there doveva dire ma è stato detto a ragazzi se in inglese la butto lì va studiate non parla nessuno non c'è audio non parlano proprio l'hanno secondo me l'ha fatto bruttamente silenzioso così per lasciarti più a spese di via ma si sentiva solo l'urlo titettino l'initerno chissà se carlo è morto se è morto l'hanno mangiato vivo gli zombie ma si giustano mostri capo di tutto se non fosse dimenticato fino ha fatto carver successo ieri dipende potrebbe essere successo tre giorni fa perché se questo qua usciva di venerdì lo aspetta non è qui e qui la scelta della vita scelte difficili zombie o salviamo la vita lei abbiamo la vita lei visto che con quell'altro lì l'indiano aveva funzionato da zombie era già morto magari gli indiani sono immuni certo questa scritta ci fa per pensare a me sto nell'indecisione di no e no però figata no cazzo puttana miseria miseria e no che non aveva per salvata e grido che non si vedeva nelle capo perché se la mangia viva adesso ma porca troia un poi è un problema adesso colpivamo lo zombie mangiavano comunque e comunque era già stata mossa perché non cambiava niente tra l'altro non ha funzionato ci dividiamo che è un piacere ascolta non ha funzionato il sottotitolaggio perché dovevamo metterlo secondo me in tutto e due come ho fatto prima sai che prima l'ho fatto sia in uno che nell'altro c'è un piccolo taglio no perché se esco da qua mi fa rifare l'episodio eh lo so me lo fa rifare vabbè quando muore lei fa il taglio adesso la morsa sul collo tagliagli la testa e questa era l'altra scena che avevo visto puttana juve non pensavo così in fretta però non mica si è l'unica we have to live canna di di canny letto il gruppo lascialo andare dai così mi sembra un po troppo violento canny letto che dobbiamo andarcene o è stata mossa però non sono violenti se ne lo stai dicendo perché c'è si è morto man si è morto si è morto Kenny si è morto non mi lascio si è morto si è morto si è morto non si è morto Kenny mi spero che ci si è morto di canny hai sentito cosa ha detto? lui non voglio rimanere da solo di nuovo tu non l'hai visto con la scelta vabbè io vado a cazzo vabbè io vado a cazzo cioè ax salita io faccio quella se non sei lì eh sei una bambina di dieci anni ho avuto la scuola di lì eh ho capito ma veramente però cazzo cazzo a donna cosi cosa hai fatto? cosa hai fatto? cosa succede? cosa succede? non si succede ora dovremmo andare si è morto cazzo 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 io non me l'aspettavo cioè questa mi ha colto alla scuola vista ma tanto eh ma lasciami stare che devo stare attento qua hai sentito che l'ho premuto eh? sì ho sentito che ho premuto di tutto col gomito devi apporre le tasse cazzo 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 tutto a puttane è andato con cinque minuti cazzo 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 brava, brava ragazza ma accettaci questo best late pass si si ce l'ho in mano cos'è? il miglior piano laido? siamo intelligenti stai zitto, stai zitto vorrei dire oh my god potremmo fare il taglio qui, ho visto salvataggio spengo, chiudo e proviamo a mettere in italiano viva viva chi? sono uno parlavo anche quella ragazza sono grande ma sono solo parlavo anche con loro ma loro ancora non lo vedono allora qua fai stop e poi ripartiamo giro ma giro non si ferma è distrutto casa ah no puoi fare start ok ragazzi per voi un cazzo per noi un'ora e mezza no facciamo solo tiriamo il gioco eccoci ritrovati ragazzi è giovedì giovedì eh si hai fatto un taglio che loro non hanno neanche visto appunto infatti si ha ritornato i potenti mezzi le nostre magiglie sei anni grazie a dio hai scritto fuori o hai scritto thanks god non ci ho fatto caso non lo so sento inglese italiano non me ne frega un cazzo comunque ragazzi andiamo avanti intanto comunque intanto che a microfoni spenti stiamo elogiando tell ten noi perché l'inizio di questo episodio fosse uno dei migliori in assoluto cioè due secondi prima che iniziavamo questo episodio mi hai fatto la pausa ho detto minchia il terzo capitolo esatto mi è piaciuto di più eccetera ma l'inizio di questo episodio è migliori in assoluto io pensavo che iniziasse con loro al sicuro da qualche parte invece dirgli la fanno iniziare proprio quando sta il braccio voglio vedere come diventa cadere tutte le sedie esatto no perché le sedie di casa sono copa che mi hanno detto eh ho capito portatela da casa tua la prossima volta va bene posso portare la sedia con la rotella e l'attacco dietro il motorino ok andiamo sentirete il bordello ragazzi mi spiace e poi di lunedì hanno continuato a sti figli di puttana spero che muoiano tutti ho preso il sindaco intanto non ci guarda il sindaco ciao ragazzi se nel caso ci guarda muori male anche tu grazie a dio si per me non serve a un cazzo play soft rifatte le istruzioni perché le istruzioni sono quelle che faccio facciamo il file leggimi si continuiamo non tanto che possiamo vedere le carte figlia un po' figlia io no ci abbiamo promesso alvin di prenderci cura di di è roma comunque lei e suo figlio ma io così non ho più il time eh scusa metti che quella di stamattina scappa non mi spaccare casa però è il donno se lo siamo giocati ragazzi no io vado avanti io vado avanti che cosa non 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 io non posso immaginare che la aprono e prendiamo il bambino io ho paura di quello ok che noi salviamo bambino e lasciamo morire lei mi lasci stare che ho paura proprio di quella mi lasci stare anche a me si diceva Perchè che cazzo devo fare? Perchè l'attenzione di questo direi lo taglia, gli taglia la guola, gli fa coltello E fa tempo di nido, l'ho toccato dietro, vedi? Cazzo è diventata missione, è diventata Mi ha parliato un'andibola E' un po' morto Stai vicino, se ti falli dietro, non posso combattere Comunque è geniale lei Attenzione, occhio, c'è il simbolo Dove? Sotto Ah, non l'avevo visto Mi spostate quando ti tocca Non posso, posso da soli Si, vedi che poi con il mando Non ci sposti Che si vedi Ti spiace fare? Let's go Cristo Tio Vabbè, episodio 1 Io non me ne a caso Episodio 1 di che? Anche prima è uscito episodio Ma non me ne frega un cazzo Andiamo, mettimelo bene che non vedo Vedo io non ne abbastanza per tutto No, perché con te arriviamo a un'ora Ah, se trovi un cane che volete mangiare Sparagli in faccia A fin di puttanne cani di merda In questo gioco Hai carezzato il tuo quando si è trovato a casa Si Lucemi stare questo morso diventa blade perché sai che blade è certo che lo so diventa una madre da sta mossa dei vampiri esatto ed erano vampiri questo zombie e lui non è vampiro né umano però potrebbe essere immune che non fuori dunque è o diciamo a fare ipotesi a cazzo che mi ci odia un po la minchia non poteva stare mi can do about it don't even say things like that fine tanto che è mediato comunque anche se ci davano lo zoom mi stanno andando a finire così sì sì cazzo è incinta delle scheletriche in faccia a favola crista è incinta e fra un po' è morto è morto vero no è non ora no è non ora grazie poi è anche incinta agli ormoni di ripensare è morto come un eroi qual è che ho proprio detto è morto è morto è morto è morto cosa fare ti senti bene magari jane può aiutarti kenny non gli voglio dar fiducia perché sei l'incoglione no mi dica cosa fare almeno è uno sprono per farlo andare avanti kenny potrebbe sapere cosa fare aveva una famiglia speriamo che abbia fatto il punto di metà beh non ti perdono in animo ciccia che cosa farei con questo cosa vuoi fare con questo cosa vuoi fare con questo? cosa vuoi fare con questo? sorry solo facendo una conversazione non c'era nulla non cosa vuoi fare con questo? fare con cosa? mio bambino? guardo solo sul scopo anche Clem non potrà riusciare un bambino con te stesso non qui solo vuoi direzione vuoi direzione e, sai, altre cose devi lasciarmi stare sui bambini infatti è vero che sei pragmatica ma non rompere con le donne jane solo perché sei un bambino che non importa nessuno ma lei non significa che sai meglio di me hey ho visto prima quando si è iniziato io e mia sorella cosa? è morto? io non ho bisogno di te non 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 hai lo right jane jane non ho bisogno di no jane jane oh dammit anche tu anche tu beh lei però è imprese degli ormoni anche gli ormoni non esistono più gli ormoni in questo mondo qui che cazzesca che cazzo è che non possiamo solo stare qui a fare nulla lo so, lo so, lo so lo so lo so, lo so è che lei era finitato è stato così lungo siamo iniziati a rispettare che nessuno di nessuno farà beh ecco ecco lì come Kenny? ho cercato di parlare con Kenny mi ha spiegato mi ha iniziato a chiamare una piazza lo so probabilmente non lo diceva era piazza c'è anche una pistola in mano e questa è le esatte immagini che ho visto quel giorno lì noi dietro il muretto e due seduti a scendere ho capito che quando l'ho vista sono gelato proprio sì 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 volevo leggerle ho letto solo quella quella giusta e ci parlo io infatti un'altra volta ha detto minchia che io voglio non posso fare nulla non posso fare nulla sì ti le ho trovato E' vero, è stata morta, non è che non l'ha aiutata, non è che hai deciso di salvare un uomo. Io avrei detto essere arrabbiati non mi aiuterà, però invece quella aiuta. Non c'era nulla che io potevo fare. Vedete come si è avvenuto, credo che potrei preferire che tu non fassi nulla. Ho provato a salvare. Ho provato a salvare. Vabbè Kenny, oh, mi stai esagerando per la cosa. Certo che... il loro gruppo era solo smenato, non siamo uniti a loro, eh? No, no, era l'unico. 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 Sì, sì, sì. Porca toia. Ci sta, l'importante che non ti spari. È di merda come vuoi essere andato. Come doveva andare? Due volte, povero Cristo. No, va bene. Due volte. Due volte. No, abbiamo no alimenti, no acqua, è diventato freddo. E siamo in giro. E siamo in giro, in giro, velocemente. Quando gli altri tornano, sapranno cosa fare. Luke ha avuto un po' di... ... gli altri. Eh sì, ma che c'è che manca? Luke è sada, io. Mike. Arnie. Mike ha un po' di... Non puoi rimanere a stare qui per aspettare. Le cose sono abbastanza difficili adesso, e in presto ci saranno un bambino anche sulle lezze. Cosa? Adesso stai intendo di essere preoccupi? Dobbiamo andare a trovare Luke e Sara. Se si sono in problemà, potremmo potremmo ai aiutare. Clementine è vero. Dopo tutto, dopo tutto questo, se c'è una possibilità, sono ancora vivi. Potremmo prendere. Io andrò. Clem può venire con me. Grazie. Hey, ragazzi, noi sug assiudiamo questo, c'è Kenny è incazzato ma con me e, non abbiamo mammao il mondo intere. Penso sei più autodistruttivo. forse me ne intendo forse anch'io adesso e la tua accetta sono le moglie ecco la frase che ha detto prima quelli stanno andando a puttane non fatti trascinare con lui non fatti trascinare ho visto prima e, beh, molte volte è meglio essere a te stesso vedo cosa sto parlando non vuoi essere qui quando iniziano non vuoi essere qui 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 ma i tuoi occhi sono meglio non c'è nessuno per guardare e quando qualcosa succede non c'è nessuno per aiutarti non c'è nessuno per aiutarti quanto aiutare va a essere Kenny? ciò che va a fare? è più di una liabilità di tutto e la situazione non rende cose migliori non c'è nessuno per aiutare come fai a vivere senza fidarti? non sarebbe più da te che da me una risposta del genere nooo, non in una situazione così nooo, non in una situazione così li li dai qua e tu ti ricordi lì eh? è più che da te è più che da te se non c'è ne caldo un cazzo qua no rispetto a non averlo va piano ma piano ho sempre avuto una sorella o cosa è successo con la sorella? mi chiede cosa è successo, cosa vuol dire? ho sempre avuto una sorella era per smorzare cosa... cosa è successo con la tua sorella? sembra che sempre vogliamo parlare dell'inizio, non? sai, essere una grande sorella è... no, è divertente è molto semplice di essere a me oh? sai... guardare la sorella rendere la sorella? rendere la sorella sorella? cosa vuol dire? mi chiede la sorella ho pensato che dovrei riuscire è vero cosa è vero avere una sorella? no, no non è tutto buono ma... cosa potrei fare? lei pensava che ero il miglior amico ma non potrei andare impunizzata eh... è vero tutto il caso Virginia ho finito Virginia tra l'altro si? è vero che nessuno conoscevamo qui e io... ho pensato che ero amici così... Virginia fuori di testa no 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 voglio sapere bello ma... indica eh... indica con le maniche che tanto non ti vedono che cosa il voto che gli darei? allora... devo rigiocarlo perché è veramente fuori di testa però per ora farei... e mezzo non ho fatti parziali dovrei farli e vederli che questi walker hanno qualcosa di buona ciao nel caso dai lo capisco anch'io perché perché sono vestiti troppo bene eh... due qua da poco eh... eh... guardate uff... 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 e sono sicuro ma questi non erano walker da tanto tempo erano survivors possono avere qualcosa di usabile così ah... oh... ma sono sicuro controlla la chica Perchè sembra una fondita qua? Pathless Road Posso dire? Non ci fanno mai schifo E' un'altra tasca Certo? Penso che sarebbero utili per lui almeno Spingi un attimo dal microfono Dammi due secondi, intanto adesso chiudo Smart haircut Grazie Quindi La tua squadra sempre stato tan dysfunctional? Tu si fissi in là Ma non ero come loro Io avevo un altro gruppo prima La sua cosa funzionao, penso La sua cosa è quando ho riportato mia ha ha tirato così E' tutto E' male, non c'è una altra? E' un altro filo Non ho nulla controllata la scuola, la scuola di flint. Jamie sempre aveva una in sua porsola. La scuola la mia mano quando andavo a riuscire. Quale cattiveria, eh? Cazzo io che hai i Sara. Non l'ha detto. Non ci sono cacciati. Ecco, Clem, sai cosa che vuoi dire, ma... Sara, tui! C***! Ok, vabbè, abbiamo bisogno trovare un modo in. Parece che c'è un'opera qui. Ecco, noi andiamo a fare questo, ma non può essere come che ti voglia. Ci sono preparati per quello che potete trovare in là? Non è importanza se loro sono nei guai. Che c***o vuoi dire? Pensavo non ha importanza visto che loro sono nei guai. Io ne dico che... Sì, spero. Sì, potrebbero essere morti, giusto? E con ciò? Non c'è problema. Non c'è problema. Non c'è problema. Non c'è problema. Sì, possiamo fare di questo. Ragazzi... Te lo dico io, eh, non ti fidi? No, no, non è giusto così. E, secondo me, mi lascio prenderne proprio, ma lo so. Io invece do un occhio se lo butto sempre. Va boh, ragazzi.. altro episodio andato questo è un lavoro in assoluto le dicesimo episodio sì mi sembra di sì 13 si si tredicesimo tredicesimo terza sta giunta e seconda stagione quarto capitolo ex detto questo ragazzi ci vediamo al prossimo episodio ciao ciao a tutti ciao